Ancora due morti sul lavoro nelle ultime ore in un turno serale in un'azienda nelle Casertano a Marcianise. Un operaio di 53 anni è stato schiacciato da un carrello meccanico che lo ha colpito violentemente alle spalle. In provincia di Campobasso la notte scorsa è stato un agricoltore di 35 anni a perdere la vita, travolto dal trattore. Queste notizie ci portano a parlare dell'inchiesta sui cinque operai morti a Brandizzo. Oggi è il giorno del fratello di Kevin Laganà, la vittima più giovane, l'autore di quel filmato che ha ripreso gli ultimi istanti prima di essere travolto dal treno. Questa mattina il fratello è stato ascoltato in procura come testimone. In procura ebrea oggi c'è Antonino Laganà, è il fratello maggiore di Kevin, il più giovane degli operai morti nella strage di Brandizzo. Il ragazzo di 22 anni che in un video per una diretta social ha filmato i minuti precedenti l'incidente. Nel filmato si sente una voce, probabilmente quella dell'addetto di RFI Antonio Massa indagato, che dà le indicazioni alla squadra al lavoro sui binari senza l'autorizzazione della centrale e con i treni ancora in circolazione. I tre pubblici ministeri che conducono l'inchiesta, tutte donne, vogliono verificare dal fratello di Laganà, anche lui dipendente Sigifer, se quanto si vede in quel video sia un'eccezione o non piuttosto una prassi non scritta e diffusa nei cantieri, quella di cominciare a lavorare senza autorizzazione. Per questo motivo sentiranno anche altri colleghi delle vittime. È chiaro che una conferma che quanto si vede nel video sia un fatto non insolito ma una consuetudine, farebbe fare un salto di livello all'inchiesta portando la procura a indagare sulle aziende RFI e la ditta appaltatrice Sigifer. Secondo un'indiscrezione uscita dalla cassa edile non confermata ufficialmente della procura è una circostanza in fase di accertamento filtro dal Palazzo di Giustizia, tre dei cinque operai morti erano operai comuni, manovali senza alcuna specializzazione e due operai di secondo livello nel gergo degli edili detti mezza cazzuola con un minimo di specializzazione. Avevano il grado e le competenze per operare in quel cantiere sulla ferrovia? I sindacati denunciano il numero troppo alto di lavoratori di primo livello e di precari alla Sigifer. Anche di questo ovviamente si occuperà la procura. Le famiglie intanto attendono in nulla osta per i funerali. Al momento sono contrarie ai sequi di Stato solenni ma servirà ancora tempo. La medicina legale deve ricostruire tutti i DNA.